Siamo con il mister Giamina, una partita ha iniziato in difficoltà, vi hanno pressato a tutto campo, però al secondo tempo poi tutto indice. La partita sicuramente è stata difficile, nel primo tempo loro hanno giocato bene, noi però ci siamo complicati come al solito la vita da soli, commettendo degli errori abbastanza elementari. Nel secondo tempo abbiamo corretto delle cose, ci siamo difesi molto meglio, siamo ripartiti bene in contropiede e nel secondo tempo sono molto soddisfatto perché abbiamo espresso finalmente un buon gioco e abbiamo anche curato particolarmente la difesa. Per chiudere l'anno è andata bene così, sono soddisfatto del risultato finale, dopo due sconfitte non era facile riprendersi, ci siamo ripresi molto bene, abbiamo creduto nel risultato di fine girone d'andata. Siamo secondi, adesso ci aspetta un tour de force veramente impressionante perché ci aspetta prima la Coppa e poi la partita forse più importante con il Macerata perché è la prima del girone di ritorno e il Macerata è una squadra in piena forma. Per cui chiudiamo bene l'anno, speriamo di riaprirlo come lo abbiamo chiesto.